È un vero peccato che il Comune di Sciacca non abbia partecipato al bando Sport e Periferie, che metteva a disposizione risorse per l'adeguamento e la riqualificazione degli impianti sportivi. Ad esprimere il proprio rammarico, ma anche disappunto, per la mancata presentazione di progetti da parte dell'amministrazione comunale, è il consigliere di opposizione Giuseppe Miglioti. Era stato lui, primi di dicembre, ad informare dell'esistenza di tale bando, pubblicato dal CONI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che metteva a disposizione fondi per un ammontare complessivo pari a 100 milioni di euro destinati alla ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi che si trovano nelle aree periferiche delle città. Uno strumento che, a giudizio del consigliere Miglioti, la città di Sciacca avrebbe potuto sfruttare, mediante la presentazione di progetti, nel tentativo di risolvere, per esempio, i problemi dello stadio comunale Gurrere, dell'alternativo Giuffrè e, perché no, anche di altre strutture sportive. Le istanze andavano presentate entro il 15 dicembre dello scorso anno. Capisco che il tempo a disposizione era oggettivamente risicato, precisa oggi Miglioti, ma da parte del sindaco che detiene la delega allo sport, mi sarei ugualmente aspettato un impegno personale per non perdere questa opportunità, visto e considerato, tra l'altro, che è stato lo stesso sindaco, Francesca Valenti, a dichiarare alcuni mesi fa, con grande enfasi, che chi, come lei, ama veramente lo sport, al pari dell'atleta, sa che il superamento degli ostacoli è insito nella nozione stessa di sport e non spaventa né preoccupa. Non voglio pensare, prosegue l'esponente della minoranza, che a spaventare il sindaco sia stato il fatto che la proposta di partecipazione al bando provenisse da un consigliere di opposizione e abbia pertanto preferito snobbarla per motivi squisitamente politici, perché, se così fosse, conclude Giuseppe Miglioti, a pagarne le conseguenze non sarebbe il consigliere comunale di opposizione, ma tutta la città.